Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 La musica è la vita! This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin Let's begin We're ready to go on First of all on the show from the Piper Club The Riepilogo I want you to do it We're doing a contest Con tutti i talenti che si sono esibiti nel prediretto dalle ore 18 Sono arrivati 20 in finale Stiamo sentendo uno ad uno In questo momento dobbiamo dare spazio alle prossime esibizioni E quindi il nostro Paolo Roberto sta dibattendo Valeo Russo può arrivare anche dalle parti di Paolo Roberto Si sta conteggiando credo Raccogliendo i pareri della giuria Che succede Paolo? Come sta andando? Si si scusate Noi niente ci stavamo confrontando Cosa stavi facendo? Stavo io sono perché l'ha detto ai punteggi Ovvero sto prendendo nota dei voti che hanno dato i nostri giurati Visto che abbiamo avuto degli spostamenti in scaletta Sono andato a chiarire la posizione e il numero Però tutto a posto Devo dire va tutto in ordine Abbiamo i punteggi Abbiamo anche qui ora la prossima band già schierata sul palco Li vedo più pronti di prima? Si? Ci puoi anche parlare? Non sei più pronto di prima? Eh forse Oh bene voi da dove venite? Veniamo da Roma, Cinecittà Da Cinecittà? Cinecittà Oh e come Da quanti anni è che suonate? Suoniamo da Abbiamo avuto tutti gli esperienze precedenti Insieme suoniamo da tre mesi Da tre mesi? È poco da tre mesi suonate? Si suoniamo da poco Ok Complimenti Complimenti perché hanno fatto la loro bella figura Voi siete pronti credo? Vi stanno finendo le ultime regolazioni Questo ovviamente succede Quando abbiamo a che fare con numerosi band Ognuno ha le proprie impostazioni Il bello è anche questo Avere il proprio stile Non solo per quanto riguarda le note La musica Le parole Ma anche per quanto riguarda il suono Le distorsioni Gli effetti E il bello Io ho sempre sognato Avere un gruppo Lo posso dire oggi in diretta Allora aspetta Cioè io devo fare una cosa Devo chiedere alla giuria Come si fa ad arrivare ad essere Comunque cantanti famosissimi Con un grande pubblico Con le canzoni Che vengono passate in radio Perché non è che Cioè loro Come ci si arriva a quei livelli Perché sembra esserci un qualcosa Me lo può insomma dire Con un suo pensiero vero però Ecco Allora intanto ci vuole Un po' di fortuna sicuramente E molta perseveranza E avere Diciamo il coraggio di seguire Le proprie idee musicali Indiscutibilmente Rispetto agli opinioni comuni Io Quello che volevo dire Che tutti questi ragazzi Che stanno scrivendo Pezzi originali Il mio pensiero È quello di spingerli A continuare su questa strada Indipendentemente Da tutto quello che sentono Su di loro Insomma E io credo che questo Sia uno degli elementi fondamentali Per arrivare Ha successo Poi certo Ci sono tante altre mille componenti Che si devono Incolonnare Insomma E i vari talent Della tv Secondo lei Insomma Sono vari amici X Factor Lei insomma Li ammira Oppure magari Un po' li critica Io su questo aspetto Solmiso Diciamo Solleverete a rispondere Nel senso Alcuni personaggi Nel mondo della televisione Che governano un po' Il mondo discografico Non credo che siano puri Quanto sono puri Questi ragazzi Che stanno sul palco Purtroppo Questo è un po' Il male Del mondo discografico Però Io credo che bisogna insistere E quindi Per essere puri A questo punto Lei mi dirà Che un suo pensiero È che il web Probabilmente È molto più puro Insomma Della televisione E anche di altro Sicuramente il web È meno controllato E quindi In quanto tale Probabilmente Dà più spazio A persone che Non hanno nessun santo In paradiso E allora Un applauso A questo pensiero Perché ha riassunto Un po' Veramente il concetto Secondo La purezza della musica E del talento Vai Paolo e Roberto Sono pronti? Sono pronti Sono pronti Li presentiamo come Talenti anche loro Del talento della notte romana Loro sono I Silence Too Good E cantano l'inedito Memory of an astronaut Memoria di un astronauta Grande bronzo Radio Radio by Night Roma Radio by Night Roma Presenta il nuovo talento Della notte romana Watch the sun come down So far from this town I want soul quiver We can stay together I don't know her address Maybe can be a mess So close So around Two guys in the town It's my Just an impression You're so confidential You're so confidential You're so confidential I say you're so very fashion You're so very fashion As my brain said You are so mad Don't you see I don't know Now love is what I want You are talking to my heart Love flows faster than a car Don't you see I don't know Now love is what I want You are talking to my heart Love flows faster than a car Watch the sun come down So far from this town I want soul quiver We can stay together We can stay together I don't know her address Maybe can be a mess So close So around Two guys in the town It's my Just an impression You're so confidential You're so confidential I say you're so very fashion You're so very fashion You're so very fashion As my brain said You are so mad Don't you see I don't know Now love is what I want You are talking to my heart Love flows faster than a car Don't you see I don't know Now love is what I want You are talking to my heart Love flows faster than a car This is not a simple mistake What I have is not an adage It's my own impression I'm feeling a sensation It's my own impression I don't know Direction It's my addiction I need to want an injection It's my own addiction I need to want an injection Don't you see I don't know Now love is what I want You are talking to my heart Love flows faster than a car Don't you see I don't know Now love is what I want You are talking to my heart Love flows faster than a car Erano loro Erano loro Erano loro i silence Too good Questa era Memory of an astronaut Radio 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 By night Roma 104.5 About the time Over To learn According To learn